Ecco perché dovresti smettere di masturbarti, tu starai pensando Oh ma il porno non è dannoso, è una cosa naturale e mi rilassa Certo, se ti segui una volta è ok, ma se colpisci il tuo cervello con dei picchi di dopamina ogni giorno con il solo movimento del polso Smetterai di avere dopamina per le cose più difficili come studiare e lavorare Inizia a dipendere dal porno per i picchi di dopamina, inoltre diventerà sempre meno piacevole perché ti abitui Sono onesto, quando ero al liceo ero totalmente dipendente Parliamo di due al giorno, minimo Infatti quando studiavo per una verifica rimandavo fino alle ultime ore prima di iniziare E non riuscivo a leggere per 15 minuti senza fermarmi e prendere qualche sorta di gratificazione istantanea La dipendenza dal porno ti rende una persona pigra e la cosa peggiore è che non saprai neanche che è colpa del porno